1 dicembre del 2024 vediamo se riesco a legare il ramo di ginestra quasi perché in il ramo mi pregono più ciliegie questo è un po' il grasso si va bene va bene attacchi giù il problema deve essere legge si sta di resta una legge 2 9 perfetto non è facile mettiamo qui questo in ginestra non si fa tanto la cosa mettiamo qui non è facile non è facile o si non è facile ecco qui qui resta qui 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 hier qui qui non c'è più attacca guarda, trova guarda l'occhio con il giocamento della costa la costa basta io mando ne freddo e per questo sto attaccato prendiamo questo è più lungo questo è adatto guarda, andiamo guardiamo questo coso lo mettiamo qui esattamente qui si bisogna imbarare il sistema ecco qui uno ora se ne devo partire un altro questo però è troppo bacca a fammela ammorbidire sul centro ecco qui anche questo sta a posto vedete prendiamo l'altro da mezzo sempre di questa parte anzi questo sapete dove non è esattamente qui si devo farci qui una prima da metto il giocamento perché questo sta a chiusare ma lì adesso si deve rascare questo è questo e mettiamo qui e mettiamo qui va bene mi è scappato un po' di pazienza con i piani in grado ma questo sono due rami ecco qua ecco qua la conglia è un po' una giusta distanza uno e due poi c'è anche questo qui e questo qui e questo lì vabbè ora lo prendo lì qua eccolo qui un altro no questo è qua ci 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 ho guardato qui, questo l'amore c'è di qua allora ok, ok 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 Allora sto a trovare, a legare questi rami, perché dopo questi uomini alti in alto, producono meno ciliegi invece così, vanno sotto e producono molto più ciliegi e sono facili da raccogliere. Questo è un nodo che ho fatto, vediamo qui, quest'altro è un altro nodo, e quest'altro è un altro nodo, e quest'altro è un altro nodo. E' un'altra cosa che ho imparato, ad esempio, se devo legare questo rama, alla punta è un po' più difficile, dovrebbe legare sempre da questa parte qui. Grazie. Grazie.